Sinistra 4, in subito destra 2 su ponte. 20, sinistra 3, 50, accenno sinistro, accenno destro, suddosso, tieni stai centrale, 50, alla rete accenno sinistro, 100 a vista, suddosso, al muro accenno destro, suddosso, alla siepe sacrifica accenno sinistro, in subito destra 3 chiude gira sconnessa. 20, alla madonna sinistra 3, apre scivola, per accenno destro, sconnesso, suddosso, accenno sinistro, suddosso, al cartello sinistra 3, suddosso, chiude scivola, chiude e scivola, in subito destra 3 scivola, per sinistra 3 scompone, non ci voglio riandare a camporella, 50, sinistra 2, due tempi, in subito destra 3 non tagliare, in subito sinistra 3 gira, per attenzione in subito accenno destro, suddosso scende, in subito destra 2 gira, non tagliare, accenno sinistro, in subito destra 3 vai, 100 al secondo dosso, stacca in subito, sinistra 2 chiude, sinistra 2 chiude, in subito destra 3, per attenzione tornante sinistro, un salita sta largo, vai, 100 sinistri, al capannino destra 2, destra 2, 50 sinistri, al muro destra 3 sale, in subito accenno sinistro, per la madonna destra 3 chiude, destra 3 chiude, per sinistra 3 affinerei il, chiude, chiude affinerei il, ai sci pressi destra 3 sale, per accenno destro, per accenno sinistro tieni destra, al cartello sinistra 2, al cartello sinistra 2 con salto, sinistra 2 con salto, in destra 3, in sinistra 3 lungo, in destra 3 chiude, 50, accenno destro, 20 a vista, alla casa accenno sinistro, destra sinistra al rail, sinistra 2 chiude, sinistra 2 chiude al rail, in subito destra 5 vai, 50, al rail stacca per sinistra 2 lungo su ponte, 2 lungo su ponte, vai, accenno destra, accenno sinistro, accenno destro, al rail destra 3, 2 tempi all'ulivo chiude, chiude all'ulivo per sinistra 3, chiude, vai, sinistra 3, in destra 4, 2 tempi, 2, in subito accenno sinistro tieni, per attenzione sinistra 3 gira, accenno destro, per destra 2 al rail chiude, rail chiude Andre, alla casa destra 3 gira, per accenno destro non tagliare, attenzione non tagliare qui eh, 50 a vista, al cartello stacca dopo sinistra 2 alle case, stacca dopo sinistra 2 alle case, vai, per destra 2, per ai cipressi sinistra 3 chiude, sinistra 3 chiude, per destra 3, 4 tempi, 4 tempi, 1, 2, 3, 4, 50 a vista, alla casa accenno destro, per attenzione stacca in subito sinistra 3, meno sconnesso gira, attenzione stacca sinistra 3, meno sconnesso gira, in subito destra 4 vai, 50 a vista, al muro sinistra 3 tieni corda, sinistra 3 tieni corda, 20, destra 3 meno apre, per accenno sinistro stacca dopo la staccionata, per alla casa sinistra 2 gira, 2 gira, in destra 2 chiude e gira, in subito sinistra 3, in subito destra 3 alla staccionata, in subito sinistra 3 lunga al cancello, destra 2 chiude occhio, in sinistra 3 lungo alla casa, destra 3 chiude e tieni corda, alla casa destra 3 chiude e tieni corda, 500 a vista, vai, ai cipressi destra 4 tieni fegato, in subito accenno sinistro, per accenno sinistro, in accenno destro tieni, accenno destro tieni, a rail sinistra 4, albiri accenno destro, per stacca al rail, attenzione sinistra 2 gira, stacca al rail, attenzione sinistra 2 gira, stacca sinistra 2, in subito destra 2 gira alla casa, accenno destro, per allo specchio accenno destro taglia, stacca sinistra 2, accenno destro taglia, stacca sinistra 2, in subito destra 3 vai, per sinistra 3 gira, per destra 4, per attenzione al cartello sinistra 3 sconnesso ai cipressi, sconnesso ai cipressi, 50, alle case destra 4 tieni, per attenzione ora, accenno sinistro, attenzione tieni sinistra, stacca al palo per destra 2 rotoli, destra 4, lunga stacca inversione sinistra, stacca inversione sinistra, 50, accenno sinistro, in subito destra 3 gira, destra 3 gira, per sinistra 4, per destra 4, 3 tempi tieni lunga, intornante sinistro, alle zebre sinistra 2, in subito destra 5, lunga tieni, tieni sinistra, alla cartella accenno sinistra, attenzione in accenno destro, attenzione alle zebre sinistra 2, gira per attenzione subito scicando entrata a sinistra, vai, tornante sinistro, in destra 3 lungo, in subito sinistra 3 lungo, per alle zebre, attenzione destra 2, gira 2 tempi, chiude alla fine, per sinistra 3 alle zebre, destra 4 lungo al rail, chiude, per sinistra 4, per accenno destro, alle zebre, destra 3 gira, in sinistra 4 lunga, destra 3 gira, in accenno destro, in sinistra 3, per attenzione al muro destra 3 lungo sconnessa al muro, chiude, in sinistra 2 lungo al vuoto, chiude, in destra 3, in sinistra 5, accenno destro, alla rintiera sinistra 3 lunga lunga, vai, accenno sinistro lungo, al rail, attenzione destra 2, in sinistra 2 gira, al cartello apre, per destra 2 tieni destra, destra 2 tieni destra, per inversione sinistra, per sinistra 3 scivola, in destra 3 lungo suddosso, per attenzione stacca sinistra 2, accenno destro, per destra 3, 2 tempi tieni giù, 50 a vista, rail, attenzione tornante destro, attenzione tornante destro, 50, all'olivo accenno sinistro, per attenzione destra 4 in staccata, tornante sinistro, non stringere, destra 4 in staccata, tornante sinistro, non stringere, accenno sinistro, per destra 3, meno allo specchio, chiude, chiude, sinistra destra 4 lunga tieni, vai, sul dosso accenno destro, in destra 3 lunga due tempi, per accenno sinistro, per al rail, destra 4 suddosso, attenzione sinistra 3, destra 4 suddosso, per fai attenzione destra 3, tempi a vista, destra 3 gira, a rail, accenno destro, in subita attenzione sinistra 3 sale, al cartello cozzile, stai attento, sinistra 4 tieni, in subito destra 3 chiude alle piante, destra 3 chiude alle piante, in accenno sinistro, in destra 4 alle case, al muro destra 3, per attenzione tieni sinistra, al vuoto stai centrale, salto in sinistra 3, in subito stacca in accenno destro, alla Madonna sinistra 2 per accenno destro, in subito sinistra destra 3 lunga al vuoto, stacca sinistra 4, sinistra 4, destra 3 al rosso chiude, per destra 4 tieni, attenzione qui ai blocchi sinistra 3, al rail, attenzione sinistra 2 gira, attenzione qui è dove era sporco, tempi a vista, sinistra 2 gira, tempi a vista, accenno destro, per destra 2 gira, in subito sinistra 2 vai, 2 gira, sinistra 2 vai, al rail destra 4, 2 tempi, al viri sinistra 3 sale chiude, per destra 2 chiude, destra 2 chiude, 20, al vuoto destra 2, per alla rete accenno destro, per sinistra 2 stacca subito tornante destro, sinistra 2 stacca subito tornante destro, preparati subito tornante destro, 100 a vista suddosso, al rail destra 3, per subito sinistra 2, sinistra 2, in accenno sinistro, in destra 4 lunga tieni, 20, sinistra 2, in destra 4 lunga gira, gira, vai, sinistra 3, in subito accenno destro, accenno sinistro, per destra 2 apre, per accenno sinistro, per accenno sinistro, accenno destro, per sinistra 4 lunga tieni, sinistra 4 lunga tieni, al cartello subito destra 2, in subito destra 2 sconnessa, in sinistra 3 lunga gira tieni, lunga gira tieni, al apre, 200, bravo Andre, per accenno destro sconnesso, 20, sinistra 4 gira lunga, in destra 3 meno taglia, destra 3 meno taglia, vai, per l'attenzione sinistra 2, in accenno destro, per accenno destro, 20 a vista accenno sinistro, in accenno destro tieni, non aver paura, destra 4 fine!